nella splendida location del mausoleo della bella rosina torino è stato presentato il volume business class golf edizione 2016 ad accogliere gli invitati ci ha pensato una mongolfiera greffata business class e le note dei cheat brass quintet che si sono esibiti anche nel corso di mito per la città le parole di daniele fissore che si è confermato artista di fama internazionale e per l'occasione ha creato un celebre green aggiungendolo per la prima volta nella sua storia artistica proprio una mongolfiera all'interno del quadro hanno accompagnato la presentazione di un volo lungo tutta la vita a bordo di una mongolfiera in viaggio con daniele fissore che il titolo del racconto della sua vita a lui dedicato serata che è stata anche l'occasione per presentare il documentario passionalmente distaccato prodotto da business class edizioni con la regia della videomaker federica borgato gli ospiti della serata hanno così potuto conoscere personalmente l'artista sabiglianese e ricevere una copia del prezioso volume siglata dall'artista come nata l'idea del golf e di dipingere il green ma sicuramente c'è stata una folgorazione durante un viaggio in scozia sono capitato per caso a sant'endrius che viene considerata la mecca del golf e in ogni caso questo tipo di paesaggio cioè il verde che sconfina con con il mare con l'oceano quei cieli molto mossi nuvolosi mi hanno creato una suggestione che insomma che mi ha colpito moltissimo mi sono portato dietro per un paio d'anni queste suggestioni e poi attraverso altri elementi di interesse ad ampio spettro voglio dire tipo pensando che il golf sarebbe diventato anche in italia presto uno sport molto diffuso e soprattutto il discorso ecologico ambientalista avrebbe preso piede all'inizio degli anni 80 c'erano già molti segnali che questo sarebbe avvenuto bisognava coglierli indubbiamente io pensavo appunto pensando di non sbagliare e non ho sbagliato ho insistito su questa tipologia di immagini anche se all'inizio mi dicevano il verde non si vende e ho vinto ho vinto la sfida perché si sono avverate contemporaneamente fortunosamente fortunatamente entrambi le situazioni in qualche maniera il mondo ha riconosciuto anche la tua grandezza olimpiadi brasiliane collettiva d'arte il golf inserito come disciplina olimpica per la prima volta c'erano anche i tuoi quadri alla mostra nella galleria d'arte contemporanea nazionale brasiliana è l'ultimo episodio di una tutta una serie che ha determinato in qualche modo concedetemelo una mia internazionalità le mie opere sono state esposte e vendute veramente in tutto il mondo e questo con mia grande soddisfazione perché c'è questo riconoscimento dell'università universalità dell'arte che mi veniva mi è stata riconosciuta stefano gribaldo editore di business class edizioni un altro colpo di genio con questo volume dedicato al golf allora anche quest'anno abbiamo avuto la fortuna e l'onore di avere il maestro fissore che ci ha regalato anzi ha regalato la business class edizione a business class golf edizione 2016 una splendida copertina con un'opera fantastica che poi potrete vedere sulla copertina del nostro libro come viene distribuito allora business class golf viene distribuito in 35 circoli di golf in piemonte valle d'oste liguria viene distribuito gratuitamente a tutti i soci è un libro che viene dato agli over 18 in 12 mila copie nove quadri liberamente ispirati grazie a tutti